eccoci eccoci allora l'ultimo blocco che scatole che scatole hai detto? sì perché tra poco finiamo non sto più con te adesso ridiamo perché sta una puntata ricca con un sacco di persone ho iniziato con il cibo per poi allenarci con la pole dance adesso invece ci mettiamo un po' comodi ci mettiamo un po' comodi come appunto dopo che ti alleni vuoi riposarti sul divano e magari ti guardi che ne so una trasmissione un film una serie tv eccetera e noi qui abbiamo una protagonista una protagonista di tutto quello che ho appena citato la tv il teatro un'attrice straordinaria e dato che l'hai portata tu te la faccio presentare a te sì una persona eccellente Francesca Nunzi eccola prima Francesca mi stava chiedendo ma dove devo guardare? perché guardi devi guardare esattamente il nostro lui guardo Lorenzo esatto ciao Francesca come stai? ciao ragazzi che bello bene bene buona domenica sono anche a voi mi sono precipitata perché avevo paura di fare tardi perché ho detto non conosco la zona invece sono arrivata prestissimo quindi mi sono girata tutta questa zona che non conoscevo ecco però hai visto dai hai visto quel dance e pure hai detto possiamo dirlo tra le quinte voglio farlo prima rideranno tutti quelli che mi conoscono staranno ridendo perché io sono un ciocco di legno ma se faccio le prove poi riesco pure a fare due passetti solo che il palo non so il palo è qualcosa che sta spaventando tutti no anche lei mi ha detto dai vieni vieni facciamo il palo il palo è qualcosa che io il palo se devo fare che ne so se devo fare la guardia a qualcuno che entra il palo quello lo so fare ma il palo sei stupendo però dato che tu sei un'attrice veramente affermatissima se ti dovessero dire con un palo è lì dicendo il palo è come se fosse tuo figlio per dire devi sgridarlo tu lo faresti lo levo e lo faresti sì vabbè ma poi si fa tutto poi insomma voglio dire uno si ha ripeto io sono un ciocco di legno però ho fatto cinque anni di aggiungere un posto a tavola dove ballavo e vi giuro che all'inizio le prove i ballerini ridevano sono diventata la loro chiaramente insomma eccolo qua posso dirti una cosa qualcuno l'aveva già mangiucchiata eh vabbè posso dirti una cosa perché anch'io ho fatto aggiungere un posto a tavola ovviamente a livello scolastico eh sì ma e avevamo la stessa parte della moglie la moglie del sindaco sì e quindi quando l'ho sentita ho detto oddio lei mi sta troppo simpatica ortenziuccia i miei figli mi dicevano mamma vai a fare ortenziuccia stasera ortenziuccia e devo dire che ortenziuccia purella balla zompetta sta sempre in scena magari parla poco però ci sta sempre è vero è vero c'eri sempre è vero è vero e me non sapevo le risate se sono fatti i ballerini ancora ridono perché facevo io proprio negata quando loro capito quella è la nostra coreografa posso salutarla la nostra è Cristina Arroda un bacione grande grande che allieva e poi è stata da tanti anni assistente di Gino Landi che non c'è più purtroppo al quale mando un bacino e Cristina diceva i passi e i ragazzi che lo fanno dei mestieri un secondo e tattà e le facevano io dicevo aspetta fermi e a me piacevano le ripetizioni ma anche lì una carrabbata perché quando è venuta da me Francesca che lei è la mia insegnante di recitazione ah tu fa recitazione con lei e dopo mi dici com'è Simone infatti che cosa mi fa? mi fa lo sai che mi hanno dato un ballerino fantastico lo conosci Francesco De Simone insegna da me e dico anche lui è Francesco De Simone e Di Simone ma sono tutti lì si conosce tutta Roma la scuola di Simone ci incontri chiunque è incredibile se non ti vuoi far vedere non andò a scuola di Simone è incredibile ma devo darci pure io magari chissà che trovo guarda delle carrabbate pazzesche però veramente non sai ecco i loro che sono adorabili qua giungi un po' sattata è tutto il team tutto il team e loro mi prendevano in giro poi abbiamo fatto un balletto io e mio marito che era il sindaco che è Marco Simeoli altro amico straordinario collega fratello e un po' anche lui come me un po' ciocco a ballare ci prendevano in giro e quindi abbiamo fatto un balletto peccato che non ve l'ho mandato lo devo ripescare dove io e lui facciamo una presa che facevano due ballerini pazzesca bellissima e noi lo facciamo a presa in giro aiutati dai ballerini quindi con tutta una insomma era da morire da ridere eravamo i loro diciamo buffoni vabbè però era bello sì ci vogliono bene anche perché poi il sindaco aveva questa parte molto autoritaria certo che era anche odiata dal resto della pubblicazione sì però no ma poi poi Marco in realtà era amatissimo quindi noi in realtà tutti ci volevano molto bene al sindaco e alla sindacessa eh c'è anche perché poi la moglie del sindaco era tutta carina in realtà era molto buona sì 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 Ortenzia è buona e io la facevo un po' diversa sì lei la caratterizzava sì 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 cioè poi la chiama mi piace perché i miei figli mamma vai a fare Ortenzio c'è stasera sempre che bello ma tra l'altro quanto siete andati in scena? beh noi siamo andati tanti anni abbiamo cominciato guarda nel 2017 per arrivare fino al 2000 l'ultimo anno scorso abbiamo fatto il quinto anno quindi e probabilmente forse faremo anche un'altra edizione ma dei soldati tramorosi sì sì lo so vabbè ma è un titolone lo so poi insomma devo dire che c'era un bellissimo cast Gianluca Guidi oltre a essere il protagonista figlio di ovviamente di Gianni Torelli sì sì e anche la reggieria certo benissimo bravissimo poi c'era Lorenza Mario adesso mi pare che è venuta a mancare la voce chi faceva la voce? del Dio sì abbiamo avuto un po' di perdite in questo aggiungi perché è iniziato tanti anni fa la prima è stata che ci ha lasciato Iaia Fiastri che è una degli autori insieme a Carinei Giovannini e poi c'è mancato Enzetto Enzo Carinei purtroppo che fino all'ultimo però ha fatto insomma i numeri perché comunque aveva 95 anni veniva in torneo con noi in treno con noi metteva le valigie io ho questo ricordo di Enzo che metteva le valigie sopra i scomparti del treno che io faccio io non ce la faccio ma la famosa tendina e lui vabbè meraviglia vedi che è venendo prima adesso sai pure delle cose la tendina Francesca la tendina che tu ti toglie con ma io ho una battuta meravigliosa e faccio in tutti i miei spettacoli mia di questa tendina che la metto in tutti gli spettacoli perché fu un fatto vero che mi successe anni fa quando facevo Pilates e quindi insomma la conosco la tendina ma io ce l'ho sempre nel senso che io credo di non avere muscoli qui sono nata senza muso io ce l'ho solo avuto tendine vabbè fa niente sei bellissima la stessa anche senza tendine allora Daniele ci mandi qualche altra foto di Francesca così raccontiamo la sua carriera con le foto ah questa ah beh questo qua è il libro che tra l'altro hai anche qui a casa qui io li ho portati io li ho portati leggerlo tu il titolo allora uomini senza uccello ma noi di che ci scandalizziamo chissà che cosa riguarda figurati di Francesca Anunzi eccolo qui uomini senza uccello ce l'avevi con qualcuno Francesca? ma allora è indirizzato a qualcuno in specifico? mi santesì allora in realtà questo è il mio terzo libro e l'ho scritto perché avevo questo fastidio vivendo con tre uomini mio marito che si chiama Otto ma è uno però fa peotto poi c'ho due figli maschi e c'ho questa tortura che purtroppo è una cosa degli uomini e non me ne vogliate signori uomini ma è la verità non trovano niente ma non trovano ma nemmeno se c'è ma ieri giusto il mio massimo mamma le scarpe dico stanno al posto loro dove stanno i scarpe non ci sono ma ci so guarda bene noi ci sono ho aperto c'erano come fai a non vedere non lo so ma è una cosa degli uomini e siccome ogni volta succede ho detto ma pensa se un giorno vi perdete quello ma come fate? perché lasciate tutto in giro non trovate niente pensa se e da lì mi è potuta dire però in realtà non è assolutamente un libro volgare perché magari la gente no l'ho letto io tutto no non è è surreale nel senso che io immagino un uomo che si chiama Ernesto che è il protagonista che raccomi ride si muore ma vabbè questo Ernesto un giorno non ce l'ha si sveglia senza e lo cercano insieme alla moglie è come se fosse un portachiavi quindi va a vedere se sta nel che ne so nel svuota oggetti che sta su e comincia questa ricerca del pene perduto un po' che si espande in tutto il quartiere tutti ha cercato come se fosse ma in realtà è molto divertente molto infatti dalle tue risate si capisce già tutto sì 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 ma io ne vorrei fare di questo libro io ne vorrei fare sicuramente ne trarrò uno spettacolo teatrale adesso ci sto pensando ma secondo me si presta per essere anche trasportato in cinema chissà chi lo sa vediamo perché tu nasci come attrice attrice teatrale inizialmente o un po' tutto come attrice sì vabbè poi ovviamente mi è capito di fare più teatro che cinema ma perché sappiamo che insomma il teatro bene o male un po' te lo puoi anche inventare e il cinema invece è un po' più complicato la televisione è un po' più difficile però insomma sì ho fatto anche quella quando ero più giovane c'è stato un periodo che faccio tante fiction tanti film poi è una certa te chiamano beh però non è vero perché poi comunque ti sei reinventata no ma io non ti sei mai fermata no però dico comunque poi hai iniziato a scrivere no io quello l'ho sempre fatto parallelamente in realtà io credo di essere prima scrittrice che attrice perché è una cosa che mi è sempre piaciuta mio papà mi chiamava Minou Minou era la gattina degli aristogatti che era la poetessa no? che c'era il pittore Minou era poi da scrivere e siccome io da piccolina scrivevo poesie avevo sempre un blocchettino guardavo la luna scrivevo una cosa sulla luna e mio padre diceva questa sembra Minou 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 e mi è rimasta un po' questa cosa perché io comunque ho sempre scritto poi scrivevo storie che la mia migliore amica Beatrice mi dice sempre ma ti ricordi le cavolate che ci raccontavo perché io proprio non è che raccontavo bugie mi inventavo delle storie cose della vita quotidiana stupende mi inventavo delle storie le romanzavo un po' ed erano poi le mettevo su carta e le scrivevo però non hai detto che sei anche cantante vabbè insomma dillo tu vabbè aggiungi un po' sta tavola devi comunque sapere cantare certo allora abbiamo un pezzettino noi perché tu ce l'hai mandato di Casato Pazio oh che bello che desidero tanto esatto quindi a questo punto lo mandiamo un pochino magari non tutto per comprare lungo è un trailer io credo ti ho mandato il trailer comunque sì magari ne guardiamo un pezzettino e poi ci racconti questa esperienza che ti sei già illuminata vai Dani mi diverte tanto solo la musica senti Ciccio domani è bene che sgombri tutta la stanza di Ale dalle cose lì di palestra perché dovrebbe tornare ma chi è Ale? ma come chi è Ale? Alessandro è nostro figlio ah è vero Alessandro è nostro figlio comunque non si sta comportando bene ha pigliato sta casa per un albergo va bene torna no 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 non va bene si deve dare una calmata e vabbè calmata calmata non calmata tu metti a posto scusa ma perché la già fa io? ciò facciamo fa Belen 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 domani mi devi fare a fondo a fondo a fondo la cucina che ciò metti a posto la polvo la scelgo io perché come la vorresti? fammi capire e beh almeno di aspetto gradevole perché perché ha ragione da troppo scusami è che vuoi un mostro che ti decidi per caso no no? non mi deve essere almeno bella che bella? carina perché è carina? perché non si riuscesse esagerare ah e poi e poi preferibilmente bionda dell'est perché bionda dell'est? beh perché pare pare che siano molto brave ed efficienti sì appunto sì beh dai brave so brave bionda so bionda e te so le bionda so tutte ma che te fa bionda a te so l'anima eh beh non c'entri dentro e quanto pure dentro più una sana alimentazione e vedrete che in poco tempo buttate giù quella pancetta è diventata un bel figlio signor voce e dopo poco favore vuoi dire cosa ci sta dentro a sto parco? ma signor Cicco come potrei saperlo io mica apro la posta dei condomini oh per cui c'è il poliziero buongiorno buongiorno che ci hai portato? allora qui dentro ci sta un padalone con i gialli e celestini per il sigolino poi qui dentro c'è un paio di scarpe qui ci sono dei guanti per manubrio e qui ci sono i manubri che sono un po' pesanti ecco pure o pure o pure capite? sembrano pezzo come capite? che colore soffi quando erano i gialli e i celestini? con una striscia verta con le ramocchiette su ecco ecco eccolo vediamo eccolo eccolo qua bello mi piace con dietro questo sfondo vero? allora Francesca ma allora Casato Pazio è un mio sogno nel senso che io ho il desiderio da tanti anni di fare questa sitcom che ho scritto insieme a Cinzia Berni che è una mia carissima anche tua amica collega che regista anche lei attrice abbiamo scritto dieci puntate di questa sitcom divertentissime tra l'altro in ognuna non tanto questa che è quella pilota però è previsto un ospite una guest per cui avevamo purtroppo c'era anche Enzo Carinei che però non ce l'abbiamo fatta insomma però per dire ogni puntata ha una guest durano 20 minuti io ne ho prodotte nel senso le ho fatte a mie spese due due puntate e le sto cercando insomma di piazzarle perché secondo me è una serie molto carina molto divertente fa molto ridere ed è anche questa è poi fatta proprio con i mezzi casalinghi perché questa l'ho fatta in un teatro l'abbiamo fatta dentro un teatro ma non c'era pubblico c'era il pubblico no non c'era pubblico abbiamo messo le risate come si fa in post produzione le risate finte però comunque quando tutte le persone che venivano a vedere le prove comunque essendo una cosa teatrale noi la provavamo e poi la giravamo la provavamo e poi la giravamo e abbiamo fatto due settimane di lavorazione una settimana per puntata e ne abbiamo girate due però insomma queste sono due pilota perché ovviamente andrebbe rifatta tecnicamente andrebbe fatta un pochino meglio a livello di altri però era per avere comunque no 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 ma è molto ed è divertente io chiunque l'ho fatta vedere si sono molto divertiti di che tratta fra è la storia è questa coppia che siamo io e Marco Simeoli che sono due attori e che diciamo quando non lavorano hanno un corso lui soprattutto insegna in un corso di recitazione lei è molto mamma Gemma si chiama lui si chiama Ciccio e lei Gemma che sono i nomi nostri di quando facevamo il varietà da ragazzi voi due insieme sì sì veramente noi abbiamo fatto i pigari col corso col gruppo dei pigari tanti anni quindi abbiamo ripreso quei nomi lì e questa coppia vive in questo condominio molto insomma la casa di Gemma è molto frequentata perché vengono tutti da lei lei è molto buona fatta da mangiare una che prepara è molto accudente quindi vanno tutti da lei e perciò c'è la vicina quella capital piano terra che che poi doveva essere Nadia Rinaldi che ha depressa quindi si vuole sempre suicidare ma non ci riesce mai però bussa da loro che abitano più alto perché se lei abita piano terra non si può buttare tutte stupidaggi però è tutta una gag ma molto divertente e questa questa casa insomma ecco è frequentatissima quindi ci stanno tutti quelli del palazzo che arrivano lì ma la cosa divertente è che Ciccio lui è Marco Maria lui è Marco Maria che fa la colf perché praticamente lei vuole una colf e Ciccio vorrebbe una bella e lei invece è gelosa e quindi fa travestire questo signore Marco Maria della Vecchia da donna dicendo no è una donna e paga tutti i condomini per dire che è una donna e l'unico che quindi non la vede donna e lui dice ma com'è che tutti la vedono bella questa che ha la barba e tutta la insomma la storia centrale è questa tutti quanti sanno che Marco è maschio meno che lui beh effettivamente però queste sitcom così non vanno più tanto infatti il problema è che mi dicono tutti è un po' datata però io in realtà mi ricordo che tanti anni fa io facevo Casa Galopeira che era anche tipo questa una sitcom e la vedeva tanta gente perché andava in uno spazio diciamo tipo dopo pranzo non so infatti è importante cercare l'orario e tutti la guardavano e io mi ricordo che non ci facevo proprio pensavo non la vedrà nessuno questa Casa Galopeira invece la vedevano e mi fermavano per strada quindi dico alla fine vedi perché sono quelle cosine spensierate sì ma infatti è una cosa che è un po' il vintage che quando torni piace secondo me poi se diverte la gente ci si affeziona quindi ma ad esempio io mi hai fatto ricordare guardando questa gag con la sitcom un po' un film recente che ho visto a proposito di Riccardo un film con Nicole Kidman che parla proprio di una sitcom che si faceva tantissimi anni fa lo ricordo infatti è proprio una cosa molto molto vecchia che poi hanno rifatto è stato candidato all'Oscar l'anno scorso e appunto parla di queste scene familiari che sono effettivamente poi molto divertenti ma sì perché la gente ci si riscontra capito dice ma questo mi succede pure a me quindi sono divertentissime quindi voglio dire è una volontà insomma bisognerebbe un attimo crederci però io insisto infatti la faccio vedere a tutti poi tutti mi dicono ma è carinissima beh è bello quando uno crede tanto in una cosa tra l'altro insomma voglio dire è una cosa che non è che muore è pronto l'ho scritto ma non il girato 10 puntate scritte e 2 girate ma 2 girate però chiaramente forse se dovesse poi partire il progetto si dovrebbero rigirare però quindi tu adesso stai facendo questo e poi cos'altro? allora io invece dunque a breve a brevissimo a parte tutte le cose che mi fa fa sto pazzo qui la faccio lavorare fino ai 4 matti tutto tutto io scapperei fossi in te io lo sopporto 3 ore alla settimana no ma è un indotto per caso non si Simone perché ci lavorano tutta la mia famiglia lavora a parte mio marito lavora non si si infatti io sono sempre più sballordita da questa cosa no e adesso io la settimana prossima sarò in scena due giorni il 25 il 26 febbraio al Barnum Seminteatro che è un teatrino molto carino questa garbatella è piccolino però di nicchia molto molto interessante una realtà molto interessante gestita da Gabriele Marzucco eccolo qua e io andrò in scena con questo mio monologo che si chiama Nevrosi ah Nevrosi ho cambiato l'accento per fare una cosa un po' che parla di una povera donna che sono io che è la verità in difficoltà con la matematica cioè io ho avuto sempre problemi con la matematica è stato il mio spauracchio per tutta la vita e continuo ad esserlo nonostante io abbia sposato un numero cioè io odio i numeri e mo sono sposato uno cosa fa? cosa fa? ma guarda viene la stessa storia io sono mia mamma che è laureata in matematica e io ho sempre odiato la matematica no cioè io proprio a me mi si chiude in si parla a me mi si chiude divento un po' fantozzi e allora la volevo diciamo la volevo condividere questa mia tragedia e ho scritto questo monologo che è un racconto quindi c'ha tutta una è un'evoluzione e è anche divertente insomma si parla anche di cose quindi ti troviamo dove e quando hai detto a Garbatella sono al Barnum semi in teatro che è a via Adelaide Bonocairo lì comunque Garbatella 25-26 febbraio alle 21 perché il 26 c'è il blocco quindi ho dovuto spostare all'orario il blocco quello della macchina delle macchine e bloccano hai pensato a tutto cara hai pensato a tutto no in realtà io l'avevo messa alle 18 poi tutti mi dicevano eh ma c'è il blocco ho chiamato il teatro e dico fatemelo fare alle 9 se no comunque anche adesso prendi sempre fatti di vita quotidiana e li riporti a livello teatrale ma io ho sempre ho sempre fatto così da quando l'ho conosciuta ma no ma io lo faccio da sempre perché credo che è una tua caratteristica beh ma penso che le persone si divertano a rivedere cioè vedendo te buffa in situazioni che vivono anche loro magari alleggeriscono pure i drammi no? sì è vero perché se uno pensa vabbè non capita solo a me si sente un pochino meno vittima e preso di mira dalla vita dice forse la vita se la prende un po' con tutti ma è vero quello che dice lei ma perché vanno tanto io penso tipo le influencer perché loro raccontano la loro vita continuamente sui social e poi la gente mettono la foto esatto la gente la gente li guarda io ho una cosa che personalmente non amo fare ma perché non mi viene non è una cosa spontanea però veramente le persone amano far vedere quello che fanno durante la vita quotidiana e la gente ama vederle adesso poi con i social è diverso perché si è anche un po' un esposizione questo l'ho visto questo l'hai visto è un po' un esposizione io invece ce l'ho proprio come esigenza di raccontare una storia non tanto quello che accade a me ma io vorrei voglio essere io voglio fare il tipo da trans vado in trans e mi come si dice divento io il veicolo per proiettare le loro situazioni non perché voglio far vedere le cose che mi succedono a me non è tanto quello ma è per raccontare delle storie che credo che siano condivisibili per tutti quanti sì sì io penso che sia proprio quello la quotidianità piace in qualche modo vedere vedersi proiettati anche sì perché è la cosa che dici ma questa cosa io racconto sempre cose di donne ho cominciato da sempre a raccontare quando andavo a prendere figli a scuola e quindi sì sì che incontri il signore con il sub un pezzo mio famoso che tanto sta su youtube che è il puttanone scolastico e tutte le donne dicono ma donna ne succede pure a me però se tu pare tra quelle non c'era mai il puttanone però c'erano tutte quelle che subivano il puttanone però alla fine invece c'era pure quello c'era pure quello a volte non si vuole dire allora mi dicono come avete visto siamo arrivati chiacchierato troppo siamo andati mi manca pochissimo quindi dobbiamo purtroppo chiudere Francesca grazie mille ma no ma grazie a voi grazie Simanto questo lo vedo tutti i giorni esatto quindi lui non ringraziarlo ringraziami grazie Manu grazie Francesca perché sta bellissima opportunità e bellissima chiacchierata grazie a voi e in bocca al lupo per Casato Pazio e Casato Pazio e per tutte le altre cose anche a voi per tutte le altre cose sicuramente verrò verrò il 26 magari mi fa piacere assolutamente io mi aspetto al Barnum sì sì io amo il teatro da sempre dico sempre dimmelo che così ti prenoto va bene allora noi ringraziamo Daniele Ricciuto Lorenzo no Guidotti Guidotti lo sono ricordato e Francesca Pierri in regia Francesca Pierri me la ricordo perché ha mangiato lo gnocco di riso esatto e vi ringraziamo ancora per essere stati con noi domenica insieme ringrazio te Simone Ripa io te Emanuela ci vediamo domenica domenica insieme e con te quando si vedono? sempre tutti i giorni tanto lo sanno e come il sabato alle 17.30 a Virata Artista ciao ciao buona domenica buona domenica Grazie per la visione!